La Rocca è lo spazio per eccellenza, anche come ascensione, venendo dal basso, arrivare è un cammino all'inverso perché dal presente si arriva al passaggio. Il tempo di entrare. L'arte contemporanea vi avvicina l'antico, contrae l'archeologia di un tempo lontano, quello che era il pathos della distanza e permette di coniugare insieme antico e contemporaneo. L'idea è che lo sconfionamento è contaminazione, quindi la multimedialità. L'arte contemporanea progetta il passato. L'arte è indecisa a tutti e a po' di te. Poi lo sconfinamento mi ricorda pure che anche i bot people sconfinano e muoiono nel canale di Sicilia. Poi lo sconfionamento mi ricorda pure che anche i bambini di Sicilia. Poi lo sconfionamento mi ricorda pure che anche i bambini di Sicilia. Grazie a tutti